Bene ragazzi, qui è Gabo, scuola e ben ritrovati nel mio canale. Oggi sono qua ancora con The Walking Dead. Volevo subito dirvi ragazzi che non so gli scontri del video precedente, però vi dico già subito che molti magari si saranno lamentati dicendo Gabo questo gioco non mi piace, porta a FIFA e gli altri. Gli altri giochi non finiranno ragazzi, anche perché tra poco domani sarà martedì, quindi c'è l'aggiornamento in Destiny e porterò assolutamente il Road to Kill Crota ovvero uccidere e fare tutto il ride da solo senza bug glitch, appunto perché è interessato Destiny. Poi comunque continuerò a 2 Division 1, farò GTA. Quindi ragazzi, tanta roba nel mio canale questo mese, soprattutto uscirà anche da Enlight a fine mese, quindi cercherò di portarvi anche quello. Farò tantissimi video al giorno, tantissimi video a settimana ragazzi perché comunque adesso YouTube me lo dedicherò a tempo pieno, almeno fin quando non troverò una sistemazione perché appunto come ben sapete il negozio non ce l'ho più, quindi diciamo che darò tantissimo su YouTube in questo periodo. Spero che vi piaccia appunto la serie ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare il mi piace e abbiamo passato la notte e adesso dobbiamo andare a cercare un apposto sicuro da passare assieme a Clementine ovvero la bimba che abbiamo trovato nello scorso episodio. Allora là c'è un cancello, dobbiamo andare a aprire il cancello assolutamente. Vai corri corri, vai! Sì, siamo un po' una scelta un po' azzardata, dire corri a uno che non ha più una gamba praticamente, vabbè. Aperto il cancello, ora siamo delle facci di prede, quindi dobbiamo stare molto attenti regà, rigà, a dove mettiamo i piedi. Cioè, ci sono dei bar... no, non so... ah, zoppi, qui mi sembrano zombie non lo so. Comunque, raga, non è stata una gara risposta questa, moriremo non lo so no, mica evoli... minchia, mai mi ammazzavi, stronzo mi si fa proprio male la gamba. Eh sì, dovresti curarmi, Bonda perfetto! La fattoria ragazzi, la fattoria Eccolo! Ciao, grande! Questo qua è uno zombie ciccione, eh? Un po' più difficile da uccidere Dai zia, ormai hai sparato, spara! Prima volevi uccidermi Ok, via, 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 corri, 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 corri Move up, move up! Eeeh! Pam! Ciao, bomber! Ciao! In affidamento, abbiamo guadagnato un trofeo Siamo alla fattoria, ragazzi Eccolo! Il vecchio Brackon, in fondo la strada, crede che la sua cavalla sia ziazzoppata Non stiamo a lungo, non staremo a lungo, bomber Prometto Dai, vai bomber Questo qua dovrebbe essere un veterinario, se è come la serie tv, eh? Questo qua, secondo me, non si fida tanto di me Ma, fa un male cane Come ti chiami? Lee Grande, Erschel Grandissimo, Erschel Eeeh, incendiante d'auto Devo essere sincero, ragazzi, eh Devo essere più sinceri possibile, ragazzi Un agente di polizia Vedete? Erschel crede in me Avete capito, bomber? Clementine Clementine Ah, gli ha scritto C'è lui che gli ha aperto la testa la sua babysitter Otto anni Ok, nel finire c'è un'altra famiglia Oh, che meraviglia, ragazzi Un lettino Un fenino Storia di merda? Merda Cazzo, no, Clementine, scusa Non volevo farti ad avviare Non ti fa vacanza, eh? Eri un peso per loro, Clementine I'm so sorry Ehi, ciao, boh, benissimo È arrivato il cowboy C'è un trattore tutto Che bello la vita familiare Fuori c'è una capola Un apocalisse Saltel o fa qua qua Non dire in un cazzo, va Meglio Si chiama Duck, insomma Non è che sia il top Forse vediamo come si mettono le cose Va bene D'accordo Questo è Lee E, uh, what's the girl's name? Clementine 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 Sì, è carino Clementine, no? Mi sa di mandarino Non vuoi andare a sta papara qua? Ma va bene On the tractor? Cool! Cool, man, yes Ok ragazzi Allora andiamo a dare una mano Insomma Abbiamo costruito il recinto, no? Allora adesso Adesso me ne vado là Via Ciao Duck Qua 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 Oddio mamma Oddio mamma Cosa è successo? Cos'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, raga? Cosa c'è, cosa c'è? Stavo chiacchierando con Hershel Ho tagliato perché tanto non... Oh merda No, non ti ha morsi Ma vi di te sto scemo di merda, oh Sta papara del cazzo Levamolo di dosso Hai scelto di salvare Sean Merda Ma raga, il bambino Il bambino è stata colpa sua Ma frega un cazzo Sean mi ha salvato la vita, ma Oh no Ma aiutalo Ma vedi sto pezzo di merda Via, 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 via Via Vieni via No, gli strappi la gamba così Oh cazzo No, merda Ma fai gli addosso Nooo Spara Ma come fai a stare bene? Non ho sufficienza Non ho sufficienza È morto Già la prima persona è andata ragazzi Vaffa culo Sto scemo di merda che è scappato Vai via Vai via Sorry sto cazzo È inutile che te lo ricorderai È vero Testa di cazzo Testa di cazzo Testa di cazzo Via 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 Perché c'è quel bimbo minchia lì Che grida il trattore Fa il bomber Cazzo Però adesso Mi macchina con lui Fatto lo stronzo Se lo ricorderà Ciao Bravo semo Oh ma sono proprio Proprio rincoglioniti Oh Oddio boh Era qua C'era quasi Ecco Arriva Arriva la bombolissima Oh il cinesino Glenn Grande Glenn Sera tot Grande 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 Vai Clementine Ci sono io per te Ma vaffa culo Oh shit Il bimbo è stato morso Sì Andiamo Andiamo Spaccagli il culo Sto qua c'ha un carattere Che non mi piace mica tanto Mi sto facendo un po' di raricazzo Eccola Eh eh Scusa Ho detto che c'è qualcuno Clomatine Corri Ma vabbè Ma è sempre per terra Comunque Questo eh Dove cazzo Clementine Run up Vai Mi piace un sacco No picchio Picchio di zombie Dai Oh 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 Menace Merda Mi stava scendendo la gamba Lì su per Madonna mia You save my ass Sì Tutto apposta Bomberissima Oh 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 Un infatto Grazie di Dio Sempre per lamentarsi Oh Gli ho detto di calmarsi Ok ragazzi Dobbiamo andare a prendere le pillole Sto qua 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 Cambiano tanto le cose In una settimana Ragazzi Abbiamo aperto l'ufficio Ragazzi Sopravvissuti dentro C'era scritto Merda C'erano i suoi genitori Qua Nooo Vediamo la foto Eh cazzo Si è quello di sinistra Lui Merda No No Ma perché Eh dobbiamo essere sincera Ragazzi 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 Adesso Abbiamo quella Abbiamo questa tipa La nostra patria Ragazzi e tu sei un detrimente al gruppo allora avremmo un problema ah si, è normale io solo mantenho da me grazie non ti preoccuparti aia, un ciuccio ragazzi ciuccio incoming vabbè, comunque andiamo avanti il bastone, un'arma perfetta per un apocalisse ragazzi forse il bastone di suo padre no, un martello un bastone, grazie ah, un bastone di suo padre, lo sapevo ragazzi, Glenn è uscito a dare a fare un rifornimento insomma è un motel ed è un po' bloccato dovemmo andarlo a salvare, secondo me erranti li chiamano qua sa perché siediti, siediti carriamo noi ti porto a carriamo i suoi occhi di falco giù a mortale prendo Glenn e torno qui non posso dai, vieni anche tu porcona è un po' una porcona questa secondo me va bene ragazzi cosa che posso prendere banna aranjatica mia ok allora vediamo proviamo a uscire da me dai la banna aranjatica tieni prego topina si è presa cura di Clementine grazie allora basta banna aranjatica allora andiamo lockati in giro ragazzi stiamo per uscire e noi ci ritroviamo con il prossimo episodio signori spero che vi sia l'abbiate apprezzato la situazione si fa molto 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 interessante adesso vediamo un attimino il filmato e poi vediamo come si mette molto male devo dire stanno mangiando un corpo non è rimasto niente esatto ora che schiva va bene ragazzi io vi saluto il nostro bomberissimo finisce qua chi via chiave aspetta selezioniamo tutto ok a posto aiuto opzioni va bene signori io vi ringrazio qui da Gabby Square da The Walking Dead è tutto brava raga